E TG più Sindaco, come ogni martedì Mario Landricina, buonasera. Buonasera a lei, a quanti ci ascoltano e ci vedono. Sindaco di Como viene in studio a trovarci per aprire un canale diretto con voi da casa, sia telefonicamente, tra poco apriremo le linee, già vedete il numero, quindi tenete pronto il telefono, quando lo apriremo ci sarà come sempre una gran corsa a prendere la linea, oppure via WhatsApp 335 70 84 396, potete già vedere il numero e potete già scrivere come tanti stanno facendo. Prima di leggere i primi messaggi, però come sempre Sindaco, qualche minuto ci prendiamo sulle tematiche politiche o quantomeno di attualità più stringenti. Mozione di sfiducia nei suoi confronti, innanzitutto, notizia che ha tenuto Banco nelle scorse ore, negli scorsi giorni, cosa si attende da questa iniziativa politica, come risponde? Beh, diciamo che nel tempo di questi due anni e mezzo ogni tanto... Per la prima cosa dice usciamo dall'immobilismo. Si è paventata qualche soluzione del genere, c'era stata una prima dei confronti di un assessore e adesso è arrivata quella col Sindaco. Fa parte del gioco politico, mi spiegano, io non sono tanto avvezzo a queste cose, ma non mi sto neanche particolarmente preoccupando, come credo tradisca anche il mio modo di pormi. Fa parte, come dicevo, di una politica che evidentemente gioca anche su queste situazioni per rivendicare le proprie opposizioni. Ora staremo a vedere cosa succede. Sono molto curioso anch'io di questa cosa. Ho letto alcune dichiarazioni di alcune parti politiche, il PD che dice ci saremo sicuramente, forse perché sa che non raggiungeranno il quorum, mi verrebbe da dire, lo dico con simpatia. Ho molto apprezzato altre posizioni, la lista civica Traglio ha manifestato un suo disappunto, il suo dissenso sulla metodologia. Vedremo anche cosa decideranno altri soggetti che sono in consiglio comunale, e su alcuni la posizione mi sembra molto chiara. Vedremo se il consigliere Rapinese e il suo gruppo potranno contare anche sull'appoggio di qualche altro. Però personalmente non sono per niente preoccupato di questa cosa, ma non perché la guardo con distacco, la guardo con rispetto. Ognuno ha le sue idee, naturalmente all'accusa di aver fatto poco, di aver cominciato poco. Di mobilismo di fondo. Beh, io posso rispondere, puntualmente lo faccio un po' alla mia maniera, che è sempre, come sempre, molto criticata. Io credo che non ci sia un numero di chilometri di strade così alto, asfaltato come quello che abbiamo fatto, non credo che nessuno si sia mai interessato così tanto delle scuole, anzi mi chiedo a questo punto, chi era nello scorso consiglio comunale e che ha assistito a tutte queste vicende, che insomma sono molto complesse per la città e non si sia così forse interessato come adesso. Sono molto concentrato su alcuni temi, forse altri hanno la speranza che io mi concentri sui temi che importano loro. Questo è assolutamente rispettabile, ma se il sindaco sono io, senza deliri di onnipotenza, mi piace mettere in fila le priorità mie della Giunta e di questa amministrazione. Credo che nel breve periodo, se si raccoglieranno le firme richieste per la discussione, si saprà. Copriremo presto i giochi, però non mi pensate preoccupato di questa cosa. Stiamo pensando davvero molto a lavorare ai tanti problemi di tutti i giorni. Per chiudere l'argomento strettamente politico, abbiamo spesso parlato di geometrie variabili in maggioranza, in particolare Forza Italia, che su diversi capitoli non ha votato in modo compatto con la maggioranza, al punto che Rapinese, quando ha presentato la mozione di sfiducio nei suoi confronti, ha detto basta con la paralisi amministrativa, Forza Italia stacchi la spina. Lei teme questo... Io temo bene altre cose, io temo di non riuscire... Come considera queste geometrie variabili, questo atteggiamento di Forza Italia, come dire, borderline, se vogliamo, in bilico tra maggioranza e opposizione? Una delle cose che ho capito svolgendo questo ruolo amministrativo è che, forse giustamente, ogni compagine ha bisogno di attirare su di sé l'attenzione, di invocare consenso, questo credo che sia legittimo, lo fa il gruppo di Rapinese cercando di dimostrare... Però dichiaratamente l'opposizione in quel caso. Perfetto, in questo caso parte della maggioranza, vedremo se si presterà a questo gioco. Si è visto anche in amministrazioni precedenti, a un certo punto la maggioranza si è rotta e ha consentito di portare avanti distanze anche pesanti nei confronti di alcuni personaggi che amministravano. Forza Italia deciderà liberamente cosa fare e come muoversi nell'ampio spretto delle possibilità che si propongono. C'è la più estrema, aderire alla richiesta di Rapinese, nessuno pensi che io sto andando col cappello in mano a chiedere a qualcuno di aderire o di non aderire, di firmare o non di firmare. Chi mi conosce sa che non farei mai e non farò mai questa cosa. Le valutazioni sono appannaggio dei singoli consiglieri, decideranno liberamente. Forza Italia fa parte della maggioranza, io ho ancora dei documenti formali di qualche mese fa quando accadde l'uscita della Giunta in cui veniva garantito un appoggio esterno. Io credo che questo ancora sia valido, dopodiché se questo funziona da stimolo bene, se questo funziona per spaventare, per impaurire, sono lontanissimo da questo tema, se questo funzionerà fino in fondo e Forza Italia chiuderà la partita, risponderà per le sue scelte. La posizione di Forza Italia è molto critica nei confronti, a dire loro, del fatto che alcune cose previste dal programma non sono andate come dovevano. Io di questa cosa sono relativamente consapevole, anche se posso mettere sul tavolo un po' di risultati, forse non abbastanza, ma un po' di risultati. Però l'ho detto pubblicamente, l'ho ripetuto anche qui, vengo anche un po' forse dileggiato per questo, ma questo è il mio stile. Ho passato dei mesi intensi in campagna elettorale e a differenza di quelli che c'erano già e dovevano sapere come andavano le cose, io come altri compagni di viaggio di allora non le sapevo e mi mettevo in testa delle cose che secondo me dovevano funzionare in quel modo. Ha pagato dell'inesperienza politica? Un'esperienza politica, ma anche la complessità della macchina comunale, dei temi aperti, della quantità di problematiche che bisogna affrontare quotidianamente, di quelle strategiche che invece hanno delle regole del gioco. Io lavoravo in un'altra azienda pubblica prima, quindi alcune regole del gioco le capivo. Però mentre per me dire delle cose, possiamo riferire alla Piazza Roma, potremmo parlare di altre cose, era esprimere una volontà, la complessità della situazione che c'era dietro non era esattamente così. Come la immaginavo. Come la immaginavo. Quindi anche qui poi è nata una discussione, anche ieri sera in consiglio, tra i poteri del sindaco e invece l'ambito che è appannaggio dei dirigenti. Prima dell'entrata in vigore della legge Bassanini, che è entrata in vigore anche per adrizzare alcune strutture importanti, il sindaco dava un indirizzo e bisognava fare così. Adesso il sindaco dà un indirizzo e per fortuna, io dico in certi casi, e a volte lo soffro in altri, il dirigente ti fa notare che quella norma lui non la può sottoscrivere perché stride, non quella norma, ma quella volontà, quell'indirizzo, non la sottoscrive perché ci sono delle norme che lo impediscono e quindi la separazione del potere politico dal potere gestionale, amministrativo, quello del dirigente, era indirizzata proprio a evitare strutture o piegarsi a una volontà politica. La volontà politica vi resta confermata su molti dei temi, direi tutti quelli che sono stati a pannaggio del discorso elettorale, però ho imparato, e lo dico avendo maturato un'esperienza che adesso mi permette di camminare un po' più solido sulle decisioni, che declinare degli enunciati è una bellissima cosa anche quando fatto in buona fede, quando poi sei lì la vita cambia e prossimamente, se verrò sfiduciato, vedremo se cambierà per un altro sindaco. Sindaco, abbiamo dato spazio a critiche, abbiamo dato spazio a fondi politici, ne arriveranno anche amministrativi, diciamo, civici nei prossimi minuti, c'è un messaggio invece di incoraggiamento che voglio leggere perché è curioso, a volte c'è chi dice io l'ho votata e non sono contento di quello che ha fatto, al contrario c'è Piero, se non sbaglio Piero, dice caro sindaco io non l'ho votata ma mi pento, quindi vada avanti così, tenga duro perché può fare molto di più per comodo, questo è un messaggio curioso che ci devo leggere. Apprezzo le critiche, normalmente devo dire che non risparmiate i miei complimenti, fanno bene anche quelli. Noi ovviamente raccogliamo e leggiamo tutto, tantissimi messaggi, sono già arrivati almeno 40, quindi si prepara a prendere buona nota, ha preso nota invece delle precedenti segnalazioni e ha qualche risposta. Torniamo alla vita reale di tutti i giorni, la città chiede risposte, tante, fa tante domande e tante risposte, cominciamo. Decoro di Piazza Venosto Lucati, quella piazzetta che è davanti alla biblioteca, è vero, devo dire che queste segnalazioni ci fanno ogni volta riaccendere la luce dove magari involontariamente viene un attimo fuscata. Proprio in questi giorni, forse ieri, le forze di polizia, se per quello che riguarda il degrado, parliamo delle frequentazioni, hanno fatto un intervento. Oggi l'assessore Corenzi è andata a verificare e per fortuna la situazione è tranquilla. Poi anche lì avremo da migliorare la pulizia del verde, abbiamo da migliorare magari anche qualche arredo, però piano piano lo faremo. Continuate a vigilare, per noi è un problema, ma intanto ci date anche attenzione e noi la raccogliamo. C'era stata una interessante segnalazione sulla difficoltà di mettersi sulla strada principale arrivando da Via Buozzi e stiamo parlando della Oltrecolle. Siamo a Loro. Si conferma questa difficoltà, però la buona notizia, ogni tanto lasciatemele dire, anzi ogni spesso devo dire qua, imminente attuazione di lavori di moderazione del traffico in Via Oltrecolle, zona Cimitero e Via Buozzi, nell'ambito dei quali, oltre a procedere alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali e all'eliminazione delle barriere architettoniche, non è cosa da poco e ci stiamo lavorando tanto, si proteggerà in generale il riordine della segnaletica orizzontale e verticale che riguarda la viabilità principale, quindi anche questa intersezione. L'altra volta era stoccato il tema, ma questo è periodico e giustamente bisogna tenere la luce accesa su questo, del progetto della perdita del finanziamento Giardini e Lago. L'avevo detto molto brevemente e sono a confermarla. problemi di tempistiche e di coordinamento tecnico-burocratico, la faccio sempre breve se no non basterebbe tutta questa trasmissione, sono state quelle che hanno portato ad un allungamento dei tempi e quindi abbiamo sconfinato. Però, confermo, la volontà e quindi progressivamente il finanziamento sulla base di un progetto che adesso finalmente vedrà insieme il giardino, l'illuminazione, possibilmente se non subito, poco più avanti, le telecamere, l'inserimento nel contesto del lungo largo e quindi la continuità anche geografica di questa, la messa a dimora di alcune strutture che serviranno anche per accogliere un pochino i servizi igienici, queste cose che in questo periodo abbiamo anche riattivato e non pensate che sia proprio una cosa sempre così semplice. Quindi la zona Monumento ai Caduti, Tempio Voltiano, Giardini e Stadio verrà riqualificata. E di questo abbiamo già contezza. Se posso proseguire? Prego. Abbiamo rotonda di Villa Olmo, l'avevo già anticipato l'altra volta, non sarà una soluzione oggi su domani, però confermo che il settore mobilità sta curando la progettazione di questa rotonda. Un nuovo svincolo, insomma, una rotonda di fatto. Sì, perché lì in effetti ci sono problemi di intersezione, ci sono delle precedenze, un po' a catena. Esatto, le precedenze possono essere fraintesi. Asfaltatura rotonda del Pino Monte Olimpino, degli ultimi 100 metri di via Belenzona. Per quanto riguarda entrambi gli interventi, i lavori di asfaltatura al primo lotto già giudicati in fare di ultimazione. La rotatoria prevede che sarà necessario procedere con la chiusura dello svincolo in uscita dall'autostrada, questo ci vorrà dire dei disagi, e poi verranno completati gli asfalti da Piazza Anna Franca a Dogani e Ponte Chiasso. Può sembrare ridicolo che mancano quei 200 metri, però quando si fanno gli appalti nelle regole e nel finanziamento bisogna aspettare di ottenere i risparmi rispetto a un'opera per terminare. Ci arriviamo, vado avanti. Ecco, illuminazione in prossimità dell'accesso al parcheggio di via Castelnuovo. Sull'accesso gli uffici dicono che proprio su quello che insiste la pubblica via, l'illuminazione, nell'emore che la rifaremo tutta, io spero di essere ancora sindaco naturalmente per godermi anche un po' questa cosa, però il processo sapete che è partito, mi dicono che la questione è aperta. Nell'interno c'è un accordo tra chi è il proprietario dell'area, che in questo caso è l'azienda ospedaliera, e CSU. Abbiamo dato questo input, speriamo che poi si possa realisticamente fare qualcosa. telegraficamente i semafori di via Innocenzo che c'era stata l'insegnazione, gli uffici dicono che quando i cittadini fanno questa segnalazione hanno il loro perché, però nella dinamica generale, l'avevo già un po' da profano detto anche io l'altra volta, meglio di così non si può fare. Credo che concludiamo con Villageno, perché Villageno, come quasi sempre nelle azioni di pubblico interesse, mettono bene a disposizione perché i soggetti concorrono per prenderlo in gestione. Succede che entrambi i contraenti hanno fatto ricorso l'uno nei confronti dell'altro perché sono stati esclusi e adesso, come sempre, aspettiamo le decisioni del TAR che potrà dire fuori tutti e due dobbiamo rifare la gara, questo va bene e a lui affideremo quello che speravamo già di vedere funzionare questa estate. Però, per dirla in dialetto, a volte le proprie difficili. Sindaco, ci sono diverse segnalazioni che richieste sullo stadio, non voglio rubare il mestiere, però siamo in attesa ancora della perizia, quindi su quello dobbiamo attendere. Allora, sullo stadio dobbiamo fare la perizia, abbiamo parlato con la società, quando c'è la perizia, la perizia come ho detto è stata affidata a un soggetto autorevole e pubblico, quindi sopra le parti, quando c'è quella ripartiamo anche sullo stadio, ma questo con la società l'abbiamo già condiviso, bisogna avere pazienza, la virtù dei forti. Tra poco apriamo le linee, abbiamo veramente tantissimi messaggi da leggere, molti riguardano le asfaltature, poi se noi riusciamo, come è ovvio, a leggere tutti, li gireremo al sindaco. Si chiedono diversi interventi di asfaltatura di tipulizia, poi le darò il dettaglio. Si chiede un controllo, visto che oggi sono iniziate le misure anti-smog, si chiede un controllo a campione del rispetto di queste limitazioni anti-smog. Però posso assicurare che l'ufficio è sul pezzo, come si dice, quindi anche se è sempre un tema molto complesso, perché poi sapete che le zone intorno alla città, come succede più in tutte le zone d'Italia che hanno questo problema, possono prendere dei provvedimenti, però per fortuna abbiamo una regione che cerca anche di coordinare questo aspetto. Vengono segnalati poi alcuni punti della città caotici, li conosciamo, ad esempio Piazza Sant'Agostino, il nodo di torno da e per Bellagio, quello sappiamo che è anche difficilmente risolvibile. Mi ha rubato le parole di bocca, lì in un delirio di onnipotenza, grande tunnel, svincolo, passa per la montagna, dobbiamo stare con i piedi in terra. Devo dire che gli uffici qualche soluzione l'hanno messo sul tavolo, però bisogna capire, dovremmo invertire dei flussi. Magari faremo un tentativo, però qui lo dico e qui lo nego, perché vuol dire che si riesce a bypassare Sant'Agostino andando su una strada diversa, che crea problemi da altre parti e poi ai residenti. Quindi prima di tutto dobbiamo pensare anche a quelli che ci abitano lì. Apriamo le telefonate in questo momento con un pelo di ritardo, perdonate, ma erano tanti temi da toccare questa sera, 031-3300-655 per chiamarci in diretta. Linee aperte da questo momento, intanto continuiamo a leggere i messaggi, non ci fermiamo perché subito è arrivata la prima telefonata. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Volevo ringraziare il signor sindaco per l'intervento del semaforo pedonale a Trecallo. Bene, lo apprezzo molto, la ringrazio. Ringrazio soprattutto, ringraziamo insieme quelli che hanno messo in opere la cosa, che sono sempre delle persone a cui dobbiamo avere attenzione rispetto ai gratitudini. Però lo apprezzo molto. Grazie. Grazie a lei. Altro da aggiungere o passiamo? Spero anche una cosa vorrei dire. Prego, prego. Spero che ci dia la fogna poi. La fogna? Sì, le darò la risposta di questa cosa. Intanto la ringrazio e le auguro buona serata. Grazie. Fognatura a Trecallo. Quindi ha preso nota. Un ringraziamento e una richiesta, ovviamente. Beh, diciamo che si è speso bene. Esatto, è partito con il contatto giusto. Gli diamo spazio, giustamente. Ha avanzato anche una richiesta. Un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Dica pure. Signora, buonasera. Volevo dire, signor Sindaco, anzitutto lo saluto con grande rispetto. Volevo dire perché, se mi può spiegare, perché a Rebio, scendendo dalla Varesina per andare a Camerlata, hanno fatto quelle insenature. A che altezza siamo, signore? L'altezza, diciamo, dal semaforo verso i Badoni. Verso via Badone. Quindi diciamo all'altezza del cinema. Gloria. Gloria, scusate. Sono tutte delle insenature pericolose da parcheggiare. In più sono evoate con pericolo di cadute. Non si sa perché sono state fatte, che progettazione c'è in corso e tutta questa cosa qui. Se me la spiega, le dico grazie. Grazie a lei. Buonasera, signor. Devo dire che... Sono le insenature per i posteggi, le alleanze per i posteggi. Questa cosa ci è stata pressantemente segnalata da diversi cittadini. Questo fa parte delle opere che sono state messe in opera a seguito delle intese per la realizzazione del supermercato. E quindi questa parte, una cosa che parte molti anni fa. Hanno discusso anche di quella mezzeria che è stata costruita sempre sulla Varesina, andando oltre in direzione Varese. Abbiamo cercato di attenuare anche alcuni disagi che creava. Adesso vado a vedere. Però per quello che mi risulta, ahimè, quelle opere appartengono un progetto approvato, credo di poter dire dalla giunta precedente, che ha risolto dei problemi. Quindi non bisogna mai dare... non mi appartiene, sapete, quello di dire colpa dell'uno o colpa dell'altro. In quelle opere chi l'ha progettato ha previsto questo tipo di soluzione. Credo sarà molto difficile metterci in mano, però darò risposta puntualmente. Un'altra telefonata, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, dica signora. Io sono un abitante di Via Manara. Sì. E c'è la strada proprio che è un disastro. È un disastro. Il padre gli aveva dato risposta... Volevo sapere quando asfaltano questa strada. Sì, signora, lei aveva già chiamato qualche giorno fa. Sì, avevo già chiamato. Ecco, allora io ho già dato una risposta a martedì scorso. Ecco, io non l'ho... ero fuori comodo. Eh, stavolta le tiro io le orecchie simpaticamente. E ho già detto che in questi due prossimi due mesi verrà asfaltata. Lei sorvegli però e mi tenga aggiornato, perché abbiamo finalmente... Mi aveva parlato di quanti anni? Trenta, mi pare, di ricordare che non veniva messo mai. Ecco, adesso è un disastro, è piena di bucchi. Ecco, adesso finalmente, vediamo se non le sto raccontando io una foto. Gli uffici mi hanno detto che tra fine ottobre e primi novembre dovrebbe essere a posto. Tenga d'occhio la cosa e la prossima volta non perda la trasmissione del martedì, però. Grazie, signora, buonasera. Va bene, grazie. Buonasera, signora, grazie. Ancora messaggi, ne sono arrivati altri dieci negli ultimi forse due minuti, avrà di che lavorare questa settimana. Lavoro aggiuntivo ovviamente per rispondere ai nostri telespettatori. Pronto o buonasera? Buonasera. Buonasera. Dica pure il sindaco l'ascolta. Buonasera. Buonasera, sindaco. Volevo chiedersi, qui a Campo di Provo, che dove c'era Campo di Provo, dove c'era la regina. Non ho capito, scusi? Ripeta, scusi. L'area ex Rizzo, dove c'era il campo migranti, giusto? Ecco, esatto. Sta diventando un parobosco come anni passati. Io ho chiesto da voi, sta diventando... Ascolti solo il telefono, ci dica, sta diventando... Sta diventando un bosco, poche parole. Un bosco? Perché le erbacce, le spide che stanno fuori dalla strada. Io abito proprio di fronte... Chiarissimo, sentiamo la risposta. Ho capito bene dove abita lei. Grazie mille, buonasera. Le confermo. L'area ex Rizzo, innanzitutto, è vostra, l'avete acquisita, l'avete in... È nella nostra disponibilità e confermo che andremo sulla disponibilità, mi scuso anche in questo caso per il ritardo, perché sono tanti mesi che è a disposizione, però non più di qualche giorno fa l'assessore Bella agli uffici sono stati da me interpellati proprio su questa specifica iniziativa. Adesso che abbiamo finalmente messo la parola sperimentazione, ma con una soluzione, sul tema di Piazza San Rocco, ci dedicheremo a questo, è sempre lo stesso ufficio, non possiamo clonarlo per così dire, e la volontà è di metterlo a disposizione come posteggio. Un'altra telefonata, pronto o buonasera? Pronto? Non era pronto. Allora riprendete la linea, 031-330-0655, mancano pochi minuti, ancora per parlare con il sindaco. Si chiede anche, ad esempio, un controllo maggiore sul trasporto pubblico per la qualità del servizio, visto gli aumenti dei biglietti, le condizioni degli autobus, dice questo cittadino, condizioni di autobus sporchi, alcuni non adatti ai tempi, insomma, si chiede una maggiore sorveglianza. Se posso fare un commento e mi volete... Intanto chiedo al telespettatore di rimanere in linea qualche secondo, prego sindaco. E mi volete aiutare? Chiaramente stiamo parlando di un servizio molto complesso, molto diffuso, di tante persone che ci lavorano e io vi chiedo, cari concittadini, di aiutarmi a capire se c'è una linea in particolare, se c'è una persona in particolare, se c'è qualcosa di specifico per andare a segnalare alle aziende, che qualcosa non va. Proprio in questi giorni ci siamo accorti che qualcuno di questi mezzi va un po' troppo speditamente. Io mi perliterò di fare questa segnalazione, chiaramente hanno degli orari da rispettare, però la sicurezza è importante. Magari senza farlo diventare una cosa che poi non diventa più gestibile. Ove vedeste che succede sempre quella cosa, su quella linea, in città, su quel bus, con quelle persone, in maniera assolutamente riservata, in maniera costruttiva e non per inseguire, punire il problema, non è il mio stile. Sappiatemelo dire, andiamo a chiedere ragioni e andiamo a cercare di correggere, così come cerca di fare l'amministrazione comunale con i suoi settori, che ringrazio sempre. L'ultima telefonata. Pronto o buonasera? Pronto? Dica pure, signora, signora, con l'ascolta. Buonasera, abito in via San Bernardino. Senti, vi volevo segnalare che qui in via San Bernardino purtroppo siamo senza corrente sulle scale. Quale è civico? Signora, via San Bernardino numero 45. Sì? Numero 45, non ci abbiamo luce sulle scale, i topi nel giardino. Signora, ascolti solo il telefono, ci dica, sì, abbiamo capito, ci dica. Allora, luce sulle scale, poi? Mi dica solo una cosa. Luce sulle scale, già tre mesi che siamo senza luce sulle scale. Più ci sono i topi che ci girano per le scale. Cioè, io dicevo, una signora è caduta sulle scale. Oh, un attimo, Lucio, gli devo dire quello che è successo. Una signora è caduta sulle scale perché ha visto un topo sulle scale e è volata da l'ascolta. a chi ha scritto, e sono davvero in tanti, settimana prossima rispondiamo alle domande rimaste in sospeso. Sì, sarà difficile, sono davvero tante. Questo qui rispondiamo di sicuro, poi cerchiamo di portarci avanti. Comunque è stata una bella serata di lavoro. Grazie per la disponibilità. Grazie a lei. Grazie alla pazienza di chi ci ha seguito. Ci vediamo martedì prossimo. Grazie. Grazie a tutti.